Comunque mi sento il pulsio, insomma no, comunque se mi ascolti abbastanza bene, tenere avanti, sto facendo già il massimo. Ok, com'è lì prima, dove già non ho una momentà, ma c'è una nebbia da 25 metri, c'è sereno, ma sotto la nebbia arriva a 3, 4, 6 gradi, e l'ultima vista che è riuscita, si fa dato il pianeta, però ha fatto un colpo anche al microfono. E sarà sicuramente diverso da voi, è lì, siamo al massimo, però sicuramente siamo al massimo, ancora stranato, il più pronto c'era il tuo pallone, il tuo pallone, il tuo pallone, il tuo pallone. Sì, perfetto, Giuliani, collezione, c'è un rinveglio, con la poltiroga, con la poltiroga, con la poltiroga, con la poltiroga, e la poltiroga, con la poltiroga, con la poltiroga. Qua, è tutto sempre abbastanza bene. Cerco SEO di fondo, ma non so capire da dove, mi sembra forse spagnolo. Ok, perfetto. Ma guarda, io non pratico moltissimo la banda dei 40 metri, quindi è probabile che non ci siamo collegati, eh. E i vattori in Italia sono tutti... Non sono... Non è mia consuetudine, insomma, utilizzare la banda di... ...tre anni a...